Il trono di Teresa Langella Il trono di Teresa Langella La splendide signorine Andrea ha commentato l'immagine postata sui social riferendosi alle altre persone presenti nello scatto. Sulla modella ha osato da Shakina, invece, non ha bisogno di alcuna introduzione. Punto secondo le ipotesi in rete lo scatto che accomuna Andrea e Tascia riguarderebbe un semplice sponsor in occasione della festività.E' attesa la reazione da parte della giovane tronista napoletana la quale, come ben sappiamo, osserva indirettamente tutti i suoi corteggiatori. Sarà particolare scoprire cosa avrà da ridire Langella a riguardo, specialmente dopo l'ultima puntata del trono classico di Maria De Filippi in cui abbiamo assistito alle lacrime di Andrea, eliminato dalla stessa ragazza.Quest'ultimo si è lasciato andare ai suoi sentimenti dimostrando a Teresa di essersi seriamente affezionato a lei.Teresa e Andrea la conoscenza a uomini e donne potrebbe non essere finita malgrado le lacrime. Teresa continua ad essere molto scettica in merito ai sentimenti che Andrea dal corso annuncia di provare nei confronti della ragazza. Nonostante la recente eliminazione del corteggiatore, non sarà da escludere una possibile riconciliazione tra i due. Sappiamo che Andrea piace molto a Teresa e l'unico vincolo appare essere la mancata fiducia. L'ex tentatore di Temptation Island, video, sebbene abbia fatto breccia nel cuore della Langella, sembrerebbe non riuscire a conquistare completamente il cuore della tronista e tra le cause della diffidenza vi sarebbero le varie conoscenze che il ragazzo coltiva con altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Per saperne di più non ci resta che attendere tutti i prossimi aggiornamenti. Grazie a tutti.